musica ti ho detto un mio amico questa bilancia Ma non mi caduto, che beccia frusta. Ma volte voli non tu? Invece di dati obeso ti da la temperatura. E io stribo, mi si. Ah io che avevo che voi siete smagrito. E va dire bravo se sono scritto alla sala di sport. Allora, allora. 75 kg e bella sono smagrito. Quella detona pena per piegare che venga di Noè e poi sta degnando, sta volta. Dite ma pena. Cosa ci va da la sala? Le bromenade in gira, o ne boge di dono o che? Ah no, no, questa avevo prima quando non era mica scritto. Allora, sempre a telefono. Allora, ma che ti boffate? Mi boffa che sei di una generazione di drabanati, un bedi. Di cosa? Di drabanati, vero, manchiamo anche di vocabulario. Di i nostri tempi. Passiamo via con i nostri tempi a telefono di mano a chiamare l'uno e l'altro che non conosciamo molto. Ecco ci siamo, di i nostri tempi. Magari devi battere più o vuoi? Non abbiamo poco vatto noi, dai. Legiamo. E che libri? Buongi libri, dai. Gaston Lagarde. Gaston Lagarde? Buongi. Buongi. E' un grande scrittore del mondo. E chi sarebbe l'ultimo libro che ti abbia detto? Allora, dilla. Dilla, lì. Qual è? Dilla, non c'è un? No, 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 no. No, 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 no. Ma è un'unica lì. Ma è un'unica lì. Ma è un'unica lì. Ma è un'unica lì. E, dià, o lì. Buongi, ecco, c'è la. Qu'est-ce qui est? Jaune. Et qui attend? Jean-Pierre. Mais non, c'est jaune. Parce que jaune attend. Jaune attend. Mais pas du tout, c'est Jean-Pierre. Et s'il est tout jaune, c'est à cause de la cirrhose. Non, mais bon, je parlais d'une blague. La cirrhose de Jean-Pierre, c'est pas une blague. Hein, le pauvre. Déjà qu'il mesure un mètre cinquante. Non, non, non. Come mi troi. Tu vois come mi troi un vestito per sorti sabato? Oh, qui passionne il paio vestito. Un petit cagouè, hein? Un amico vestito che faccia donna. Eh, a voltezi. Ma wai. Ti faccia donna au cerbello, au spirito. Je choque la indrante. Tu me choque ici a des divorces. Appunto, indoué, wai. Ça va tout zera. Tu es un nazerata studiante à l'università. Oh, yé! Mi po' il presta qualche vestito per piacet. Yé! C'est bizarre. Un capi comique. Non, perché... Perché, o' l'impiacente, un apologized mi cuarto baese, sabe a sbagliare. Adagircare la lazzana. E po' tu... Un moguliero, euh, oh, He he. Un hijo, un mail. Ah, mi rassicurada. Perché c'è un ripasso stasera a sal聯dievesti. e ci sono un gatti a portato la roba burtina che aveva decommandato guardate il nostro email se non c'è mica ah se l'agenda email va tu impressione roba burtina non è ok chi è bello stancato fonebo subiu non avevi questa cagnaccia ho lasciato di ore l'occhio ha raggiunto ma è bravito bravito a 20 anni che tu si giova e ora non c'è mica lasciare le urno gioco ma cosa dici Oh, io mo' zia, se non da non to'o continente, ma la chiesa da osa gagne, ah, bagado doutanoutan, ah, bagado. Chéri, c'est quoi chez moi le plus gros défaut? Defaut? Je vois pas. Ben si, arrête, fais pas l'hepocrite, pas nous. Il y a bien quelque chose qui t'agace plus chez moi. Ah, en cherchant bien peut-être. Ben vas-y, ti. Bon, alors, évidemment, selon le contexte, selon la circonstance, selon qui il y a autour. Ah, qu'un show. Ok, eh ben, à toi on peut rien te dire. Hein? On peut rien te dire. Comment on pourrait me dire? À moi on pourrait me dire. Je suis la mairesse de Caracoute, on arrête pas de me dire aimer ça là, effet ça là, à moi on pourrait me dire. Oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, c'est merveilleux, à moi on peut rien me dire. Non, 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 vraiment, je suis désolé, je suis désolé, allez. À ton tour, c'est quoi mon plus gros défaut? Mais toi, c'est facile, tu parles trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.